Io credo che gli artisti devono fare mistake, si apprende da loro. E questo era il problema, che in realtà tutto stava succedendo con questi occhi virtuali nel tuo cuore. Inserendosi nella dicotomia tra presenza assenza, tangibile e non tangibile, che è motivo fondante della sua opera The Life, l'artista della performance Marina Abramovic ha fatto tappa in carne e ossa a Pesaro per quello che doveva essere il finissage dell'esposizione e che invece diventa una proroga della possibilità di fruire dell'opera immersiva The Life fino a domenica. Prima Villa Imperiale, poi il Teatro Rossini, l'artista serbo-statunitense, assieme al regista Todd Eckert, si è aperta al suo concetto di essere artiste e ha spiegato la genesi di un'opera che punta sulla realtà mista fra virtuale e reale, sul concetto di immortalità e sul fornire la presenza anche quando l'artista dovrà assentarsi dal mondo terreno, così come sul superamento dei limiti, sulla libertà di sperimentare e su quella di interpretare l'arte. Forse proprio grazie all'opera dell'Abramovic ce lo possiamo definire un anno straordinario perché straordinario è stata l'occasione di ospitare per la prima volta in Italia un'opera che è stata realizzata e presentata nel 2019 alla Serpentine Gallery di Londra e che è stata ospitata in diversi altri luoghi del mondo ma a dire di Todd Eckert mai installazione fu così aderente all'idea dell'artista. Quindi non soltanto abbiamo il piacere di avere l'opera dell'Abramovic e l'Abramovic stessa in questi giorni con noi nella relazione col pubblico ma abbiamo anche il piacere di avere un allestimento impeccabile. È una grandissima opportunità che Capitale Italiana Cultura offre da Pesaro a tutta Italia in realtà e a tutto il mondo. Ricordiamo che prima di Pesaro il debutto di Grenoble, poi Los Angeles, Londra e sono state pochissime altre, forse solo queste, le occasioni in cui poter riferire di questa opportunità oggi in presenza e soprattutto anche come abbiamo appena annunciato l'esperienza è replicabile, avrebbe dovuto terminare oggi al centro artivisivo e pescheria ma un po' per il successo, un po' anche per l'accordo e la disponibilità di Marina sarà possibile, di Todd sarà possibile in pescheria a fuori dell'esperienza fino a tutta domenica quindi insomma tantissime altre migliaia di pesaresi, visitatori, artisti potranno entrare in relazione con Marina Abramovis per questa esposizione che sicuramente entrerà nella storia della Capitale e anche nel centro artivisivo e pescheria.